Benvenuti in un nuovo video di Roblox, quest'oggi vi presentiamo la nostra nuova mappa C'è una storia dietro abbastanza divertente che racconterò brevemente Intorno a luglio mi hanno contattato questi sviluppatori di Roblox e mi hanno detto Ehi se vuoi ti faccio una mappa e gli hanno fatto Boh si prova a fare una mappa su una prigione potrebbe essere qualcosa di carino Loro hanno iniziato a fare la mappa, a fare la mappa, a fare la mappa A un certo punto sono scomparsi Mesi dopo sono rientrato e mi sono reso conto che c'era una mappa più o meno finita Dove in realtà poi tutta la parte script non funzionava Allora l'abbiamo passata a guerra e abbiamo detto prova a vedere se riesci in qualche modo a sistemarla E' riuscito a sistemare tutto ed eccoci qui E' una storia bellissima perché è fantastico che questi ragazzi abbiamo lavorato la mappa per un po' di tempo E poi si erano totalmente scomparsi e provato a cercare in tutti i modi Non c'erano più, però noi abbiamo cercato di sistemare le cose e di rendere la mappa molto carina Come funziona? E' una prigione, bisogna fuggire dalla prigione Quindi ambiente di ferie che conosciamo bene, che si trova alla grande in questi posti Ed è veramente simpatica Due cose che vi faccio vedere al volo Se volete capire come funziona la mappa c'è il punto interrogativo qua in alto Che potete premere, vi fa tutto il tutorial per spiegarvi le cose E lo vedete in inglese, ma se premete la rotellina qui potete mettere lingua italiano E vi cambia automaticamente tutto in italiano Quindi avete modo di avere tutta la mappa completamente in italiano Che secondo me è una cosa carinissima Ferre che dici? Giochiamone mentre spiego? Ma sì! Perché se no abbiamo troppo tempo fermi E no Stef, se no qua fai addormentare tutti Comunque, link in descrizione, altrimenti cercate dal nostro gruppo Tipoc vi lasciamo in descrizione anche il nostro gruppo Entrate nella mappa, giocate tantissimo E dopo che la giocate, prima di chiudere tutto Lasciate like alla mappa per supportarla Grazie mille, iniziamo Funziona così Iniziamo, iniziamo In questo caso la prima è la baseball bat che fa abbastanza schifo Come potete vedere è questa qua Che mi permette di combattere Però fa la sua scena quella E sempre con gli scraps invece potete pagare ai vari, come li chiamiamo? Altri detenuti che ci danno una mano a poter evadere Quindi ad esempio se io spendo 250 Aprirò la prima zona di 11 e potrò andare avanti nella prigione Inizio ad andare, ciao fanciulli Ma ci hai già abbandonato! Sì sì, abbandono io Anch'io arrivo! Eccolo qua, bene Arrivo pure io, adesso mi pago la nuova zona Arrivo Stefano, mi lasciare indietro Allora Di lui ci lasci indietro Fiera, hai capito? Volevo subito far vedere una cosa divertente Che nella zona numero 2 ci sono ovviamente le guardie Che quando vi picchiano aumenta il rischio di arresto Se arriva 100 venite imprigionati e tornate alla zona iniziale Perdendo il 50% degli scraps Quindi bisogna stare super attenti a non farsi sconfiggere dalle guardie Perché altrimenti sono guai E con la prima amata da baseball Non è proprio banale riuscire a fare le cose Sì, non è facile Infatti sono venuto a farmare ancora un pochettino Sì, è la cosa più safe sinceramente Per l'inizio è abbastanza complicato Bisogna stare attenti Ovviamente Stef Ti sei dimenticato di dire una cosa importantissima Qual è l'obiettivo? Scappare Io mille Quindi dovrei poter andare alla zona numero 3 Che poi in realtà è la 2 di 11 Ma perché la prima teoricamente è la 0 Vabbè avete capito Allora qua si buca tutto Ed è una bella zona abbastanza grande E poi vi volevo far vedere anche che potete comprare le casse Che queste costano 1000 scraps 2000 scraps 4000 scraps E qui potete trovare i pet Potete trovare i titoli Potete trovare le scie C'è un sacco di bella roba Però tendenzialmente comunque estetica Tra l'altro il vero obiettivo del gioco Fred ha detto è fuggire dalla prigione Ma quello è l'obiettivo per i perdenti Ma come per i perdenti? E ottenere il bazooka Che cosa? Io voglio il bazooka 100.000 scraps Ma servono 3 rebert Ovvero voi scappate dalla prigione E poi fate rebert E riniziate da 0 Ma con dei multiplier Quindi sarete più veloci Fino a quando non arrivate al terzo Arrivate a 100.000 scraps E vi prendete il bazooka Che vi posso dire una cosa Ma scusa il bazooka Shotta? Cioè è fattissimo One shot Le guardie Pa! Morti Secco Così Voi pensate un mark di fronte a voi Colpo di bazooka Non c'è più Oh ma perché sempre io E perché così pensano a qualcosa di bello Però bello Sono molto bello Hai ragione No no Qualche dei bello Ne fatti esplodere Ma che dici? C'è arrivato dopo Ma hai ragione Immagina di stare in prigione Con un bazooka Bellissimo Sì bene Normale e bello Due cose fantastiche In contemporanea Tutto classico Ovviamente ti è permesso Tenere un bazooka in prigione Però è bellissimo È bellissimo Non vado l'ora di averlo Bene questa prigione È super realistica Ok? Certo Ma come vuoi avere il martello? Non mi sono fatto il martello Io la chiave inglese Al momento Adesso cambio pure zona Vediamo chi sarà più veloce Comunque come strategia Ti spiego Ma tu stai Aspetta aspetta Tu stai puntando la pistola ancora? Sì Tu sei matto Secondo me non ne va La tecnica marci Io ragazzi Qual è la tecnica marci? È restare nel posto iniziale Allo spawn Farmare un pochino Piano piano Posso fare una scommessa? Secondo me Mark È l'ultimo a scappare dalla prigione No no Perché poi quando Secondo me la pistola no No non ne vale la pena Ok anche secondo me Ma secondo me All'inizio perlomeno Vale la pena comprare le armi base Cioè seguire la successione delle armi Perché sennò poi si è troppo lento Non lo dava Ti arresti Non lo so La strategia di Marci comunque non mi dispiace Di schippare un pochino E prendere direttamente quelle dopo Però guarda Io le guardio ora le shot Quindi mi faccio tutti i rifiuti Molto più velocemente Steph Com'è che le shot Cos'hai preso Fiera? La chiave inglese La seconda Ok ok Ma io con la chiave inglese Non faccio danno sinceramente Ma come non fai danno Io l'ho shottata Ma no io mi sono dovuto Comprare il martellone Perché sono più forte di te in prigione Ovvio lo sono tutti Quello lo sappiamo tutti Io ho un buff Innato nelle prigioni Dovete sapere Io sono sempre più forte Nella mappellone Lo confermo Comunque noi tre siamo in questa zona Ok Ok almeno ci facciamo un po' di compagnia Ho dato delle sbelle incredibili Non ho capito il rumore Steph Non credo No no era molto realistico Steph tranquillo Era molto realistico Ok Vado nella prossima zona Ciao ti abbandono Eh Fede posso andarci anche io se voglio No 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 non venire Ok Così sarò la prima a scappare Ok Rimango qua a farmare per adesso Allora Ok vi voglio dire anche una cosa Mie cari fonciulli Sì Molto più avanti Di dove siamo adesso C'è una zona pvp Dove ci possiamo scontrare Per vedere chi è il prigioniero Più forte Quindi Preparatevi bene Perché ci massacreremo Tranquillo Io a me manca soltanto un rebirth E ho già il bazooka io Ah vabbè Mamma mia Ho paura Io ho paura Sì 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 Secondo me ragazzi Ve l'ho detto Noi scappiamo tra dieci minuti E lui scappa tra quaranta Così Va bene Io lo dico Io me lo sento Vediamo 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 No no sono curioso anche io Fede zitta zitta stanno davanti eh Esatto Sto tryhardando Non posso perdere una mappa di prigione Mi dispiace Quindi oggi tryhard mod Silenzio Il silenzio del tryhard Si va dritti Beh non esagerare però eh Sì che esagero Ho capito che ti manca vedere il porato Che sei in prigione da un sacco di anni E non lo vedi più Però mi sembra che ci sia un limite Allora arma Quanto costa la prossima Martello Uh sì lo posso già prendere Occhio perché raga andando avanti Si trovano anche No aiuto Guardie più forti Porca miseria Bisogna fare attenzione Io questo consiglio lo voglio dare Perché voi quando vi comprate le armi Siete convinti di essere al sicuro Ma in realtà le guardie vi vedono lo stesso E vi pestano Ma bisogna stare attenti Io mi metto negli angolini Quando compro le armi Cioè mi sembra banale Io lo faccio in mezzo alla stanza Sì mi metterlo lontano Vabbè Feri Non è un attimo Ma hanno arrestato No come ti hanno arrestato Mentre compravo il martello Ma hanno arrestato Bene Comunque infatti Ti confermo Steph Che si perdono tutti i rifiuti E metà degli scraps Che ho guadagnato Quindi sono molto triste In questo momento Ma che brutale Perché mi avete arrestato Ebbene bene Loro lavoro Do fuoco alla prigione Dove è il mio bazooka Io il bazooka lo dovrei avere Appena entro Steph Ma perché Ma quando mai Perché me lo metto Bonus per fare Bazooka Esatto Se voi premete su armi Ci sono tre bottoni Ok I costano 30 robux E durano due minuti E potete correre Il due volte più veloce Potete ottenere due volte I soldi quando vendete Oppure potete prendere Il per due danno Che fate esattamente Il doppio del danno E durano due minuti Questa è un'aggiunta Che abbiamo fatto Molto carina Fine Bello Mi piace Era Steph No per ora Però non li utilizzo Perché comunque Al momento va tutto bene Sto farmando tranquilla A parte l'arresto Che è stato un piccolo inconveniente Io sto farmando ancora all'inizio Raga Capito Ancora all'inizio Beh avanti Se no esci dopo domani Vabbè è una strategia anche quella Poi compri tutto all'improvvisa È vero Esatto È quella la mia tecnica Steffo Proprio quella Eh ma tu non mi piaci Eh mi spiace Oggi vado bene io Guardali qua che ho farmato insieme No io vado avanti Io faccio così Anche perché poi se siamo in troppi Nella stessa zona Ci rubiamo tutto Dai Fiera arriviamo va Raga io sinceramente Ho preso il per due soldi Per solo due minuti Ok E mi sono fatto Ottomila Wow Stratello però Ottomila Comunque soldi ti compri quasi un Thompson Eh ti dico Eh beh infatti Sinceramente Sto già andando nel cortile Ok Sì però non ho il livello Per prendere il Thompson Quindi ora vado nel cortile Vedo un pochino Però almeno inizio a respirare Aria pulita All'aperto Cioè Qua è un'altra cosa Rispetto a voi Qui si sta molto bene C'è pure il sole Mi sto iniziando a raffronzare Io sono al 14 Ah ok Sei molto più avanti di noi Ok Allora Fammi vedere un pochino No io posso giusto comprare L'M4 E sinceramente Mi compro l'M4 Bello quello M4 è già un bel posto avanti Quello è molto molto bello Allora Quindi zona esterna Qui le guardie sono molto più forti E infatti è importanti Avere buone armi Io le schivo raga Non mi posso fermare ogni due secondi Perché devo andare nella nuova zona Sì sì Feri le schiva In realtà le dà a me E corri Se corri smettrono di seguirti Una cosa interessante Nelle zone esterne comunque È che ci sono i power ups Quindi potete trovare a terra Quelle cose che appunto Sono acquistabili Che io ho acquistato Ok Le potete trovare a terra Durano meno Però le potete appunto Acchiappare semplicemente Camionandoci sopra Carina Tipo adesso ho preso Per due money Che dura 20 secondi Quindi sono arrivato esattamente A 15 di fiuti Questo è un consiglio Da super pro Steph Sono arrivato esattamente A 15 di 15 Ho venduto E quindi ho fatto esattamente Il doppio dei soldini Ok Bravo Steph E' un pro delle prigioni A furia di stare Arrestato con me E' imparato tutto Guarda Ma non è vero Feri a fare economia Sono io il numero uno Quello è vero Io sono a pestare Quindi E neanche felice Certo che lo sono Perché non dovrei esserlo Mamma mia Queste M4 Sono fortissimo Fra un po' Io sto per andare già via Fra poco vi saluto E vado a farmi una perseggiatina Allora Vediamo le prossime zone Raggiungiamo Steph Bene Dai dai Io sto facendo Sto lasciando un sacco Aiuto Anche quando compri le zone Le guardie ti seguono Porca miseria Allora T'ammazzo eh Maledetto Infame No sono due Mi arrestano Mi arrestano Dove scappare Feri non fatti arrestare di nuovo Devo scappare Allora eh Devo scappare Ok mi aiuto Ti ho salvato Bello grazie Prenditi il premio della guardia Grazie mille Mi riprendo questo Finché sono da solo in questa zona Faccio troppi più soldi amici miei E io ve lo dico No Non ci si può muovere Nella cucina È troppo stretta Tranquillo Adesso arriviamo Stef Ha comprato l'M4 Lui che bravo Oh bravi Allora vediamo la prossima zona Aia Mille ce li ho Ok Stef arrivo in cortile Arrivo in cortile Io l'M4 Ho già altri 5600 Ma cosa vuoi? Perché Ma tu sei fortissimo Stefo Perché c'è il per due Ragazzi il per due l'ho preso Due minuti e basta Se volete prendetevelo anche voi Non me ne frega nulla Sì me lo prendo Allora per due Mi sa che me lo prendo quasi quasi Perfetto Per due È arrivata a fare Col per due Guarda come sbrilluccica adesso Guarda come sbrilluccico di monete Ma questa cosa è bellissima Voglio averlo per sempre Solo per la scia che mi lascia dietro Almeno è realistica Ti lascia una scia? Sì Una scia di monete È bellissima Lo compro subito Lo voglio Fermi tutti Allora Allora Anche io sto arrivando in cortile Ok Ma è tutto in cortile adesso Dobbiamo stare Eh sì Mi dispiace No no Mi dispiace No grazie Assolutamente no Allora Io sto arrivando È va bene Corro 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 Ferre devi spammare kill In questi due minuti È problema che io ho il martello Eh Quello è stato un grave errore Quindi l'ho comprato un po' Con un tempismo pessimo Mi son gasata un po' troppo Però Aia Vediamo se riesco a comprarmi Aspetta un'arma migliore Prima di tutto Abbiamo tutti il per due Io però l'ho preso la terra Non l'ho risciopato Allora Vado nella zona nuova di giardino Così rimango distante da voi due Maledetti Maledetti Mi hanno arrestato Io non ho parole Aia Quei l'argi Primo arresto Campioncino marzo Arrestato Io non ho parole Mi è capitato il per due speed Sì sì Nei due mai Però tu non sei ancora nel cortile Stai formando fuori Beh è più difficile il cortile È molto difficile ragazzi È molto difficile Sì 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 La presa sul personale ragazzi Sono d'accordo che sia parecchio difficile La presa sul personale Sono molto forti qui le guardie Quindi io ad esempio che ho ancora il martello Ti pestano Non è per niente semplice Quanto costa l'M4 già? L'M4 è a 3.000 4.500 Sì 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 Me lo prendo easy allora Ok io mi sono comprata però il martello più forte Guardate la svella ragazzi Comunque con queste guardie dovrebbe andare bene questo martello Adesso vi voglio far vedere questa cosa Cioè io vi faccio dare un hit di proposito Guardate Da 15 a 48 Cioè capite che Quanto tolgono? Tipo 35 tolgono Sono matte le guardie di qua Bello ho trovato un altro per due in terra Ma veramente Si è sommato al mio Bellissimo Nella zona giardino Bellissimo Si è sommato al mio Però durano poco eh Sì però mi ha dato un po' di secondi in più Capito? No io più che altro adesso prendo da terra Il per due danno E distruggo le guardie Anche quello è bello secondo me Il per due danno è rotto ragazzi Il per due danno è rotto Ma pensa il per due danno Stef quando sei nella zona di combattimento Con gli altri prigionieri Eh già Con gli altri giocatori quindi Eh quelle potentissime Spacchi la faccia ragazzi Spacchi la faccia Sì 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 è vero Allora vado a vendere Magari devo ricordarmi di raccogliere Mannaggia Ok Mannaggia Vendiamo Ok ho già finito Devo stare attenti Oh No 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 Che succede Stef Eh sono un pochino a rischio Da queste parti Si rischia un po' di più Non è male Non è male Ma cosa non è male? Almeno poi rimango l'ultimo Stef verrà arrestato oggi Non verrà mai arrestato Ciao Stef Ciao Mark Ciao Allora quant'è che costa? Vediamo Sto guardando le prossime armi Io faccio Qualche acquisto Di casse Allora Inventario Ne ho due da aprire Quindi apro la prima Vediamo cosa trovo Ok Dai un po' di fortuna Ok Ok Particelle Che non è male Io sto super vicino all'M4 Mentre Con la seconda Ok Allora Vediamo un pochino Adesso vi faccio Vi rendo super gelosi Cos'hai trovato? Dai diccelo L'ho trovato Stef Io sto aspettando ma non lo dice Raga Non ci dice niente lui Arrivo da voi direttamente Aspetta Aspetta che arrivo anch'io No nelle casse trovi solo cose estetiche Esatto Però guardatemi quanto son bello No Vediamo Cosa che ha trovato amici? No ma anche il pet hai trovato Ho trovato il pet dei soldi Ma sono abirati Sono bellissimi E lasciare i soldi No Perché sono tra i soldi Uccidete questo infame poliziotto Ma Ferre non è ancora l'M16 No Sono povera Quanto son bello da 1 a 10 Tantissimo No allora il pet È fantastico C'è da dire che il pet Io ancora non l'avevo visto Quello ed è fantastico Ma Ferre ce ne sono tantissime Sono bellissime Sono veramente tanti tanti Allora Facciamo fuori questa Ma a che livello sei Stef? Eh sono al 16 Quasi 17 Ah ok Vabbè non siamo così lontani Io sono al 15 No 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 Infatti Allora Anche io sono al 15 Anzi quasi al 16 Interessante Vediamo Non c'è troppo di snivello Allora io sto farmando i soldi Per l'M4 direttamente Non l'hai Sì ma l'hai preso una volta il per due Mai 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 Alla fine non l'ho comprato quella volta Mai Ah no Ma le vuole fare il proprio ragazzo lui Sì 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 Ho capito E di quelli che vuole uscire Dalla prigione per buona condotta Esatto Picchiando però le guardie Vabbè Non mi sembra buona condotta Facciamo finta che quello non lo vede nessuno Però vuole uscire per buona condotta Esatto 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 Un bravo ragazzo Mi ricordo Che cos'è questo potere? Vediamo Uh bello Speed Speed Vado velocissima per tipo 30 secondi Bello Quindi speed per due Bellissimo Corro da una parte all'altra Ma poi è una scia fighissima ragazzi Sti poteri sono una cosa incredibile E facciamo così Io investo soldi e vado nell'area nuova Questa è tutta roba fatta da guerra Lo so Stavo per dire quello che guerra è stato fenomenale A fare tutta questa Grande guerra Sì perché poi la map è fatta interamente da lui Alla fine È fatta totalmente da lui E non c'erava nulla Infatti C'era solo l'erba Quindi tutto quello che voi potete fare Giocando in questa map È fatto tutto da guerra È stato bravissimo Quindi bisogna ringraziarlo nei commenti anche Certo Bisogna essere gentili con chi è così bravo Quelli meno bravi no Io ve lo dico fanciulli Tra poco fuggo No Steph Non fuggire Sì Ci abbandona sempre ragazzi però Ma C'è assurdo Beh vabbè Bisogna dimostrare di essere campioncini anche in prigione No 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 Non è che in prigione Non si è campioncini Posso dire una cosa però Puoi dire tutto quello che vuoi Poi magari non ti ascolto Secondo me Nella prossima versione Si potrebbe aggiungere anche il Po Ha ragione In mezzo alla prigione Sì Quando esci Puoi arginare il Po Così come noi Quando usciremo Dalla quarantena Potremmo andare ad arginare il Po Ho capito Capito È il nostro sogno Esatto Quindi deve essere il sogno Anche di chi gioca a questa map Ho capito Esatto Questa in effetti È una bellissima giunta Che si potrebbe fare Lo ammetto Proprio una bella idea Io mi insegnerei Cioè siete veramente intelligenti Poi Lo so Lo so Grazie Steph Chiusi in prigione Abbiamo passato un sacco di tempo A studiare libri Quindi per quello Siamo diventati così intelligenti Si si vede proprio Si Esatto Guarda come prende i power up L'infamore Certo cavolo Deve essere più veloce di te Che bello Speed 2 ragazzi Hai visto che figa la scia Quello che dicevo Che bella È bellissima È bellissima Poi puoi fermare subito in fretta Oh Esatto Corri da una parte all'altra È una figata incredibile Se vi dico quanti soldi ho Vi mettete a piangere Quanti soldi hai 13.000 Porca miseria Sono poverissima Tu stai tryhardando un po' troppo Anche secondo me Non c'era bisogno Oggi ci stavamo tutti rilassando Al sole Beh devo fuggire Nella prigione Sì ma con calma Rilassato Capito Non devi correre così tanto Io ho comprato una nuova zona pure Sono da Steph Io vado nella zona pvp Ma sarò solo soletto Mi farò da solo Se tu puoi armi OP Di certo non ti vengo a sconfiggere Ma ho un M4 In realtà Ok pure io Quindi siamo pari Anche io c'è un M4 Siamo pari Allora va bene Allora aspetta Steffo Sblocco l'area dal pvp E vengo a prenderti Ok Ho paura Ma ce li hai i soldi O lo stai dicendo tanto per Non lo stai dicendo tanto per Eh Steffo Guarda chi sta arrivando dall'alto Devo aver paura Ciao Steffo Scendi prima di sparare Pronto? 3 2 La sfida del secolo Vai La sfida del secolo Ci puoi contare No devo ricercare Perché non mi sparo Perché non si sopportava mai Non sparava più Eh sì Non sparava Ha capito Steffo Non sparava più Allora rifacciamo Allora rifacciamo Aspetta che simone danni Toglimi i due di danno Perché? Perché così siamo A stessa vita No no vai tranquillo vai Allora È sicuro di Steffo Ho sentito un aia Da parte di Mark Ora posso dirlo In realtà Ho il Thompson Ecco Era quello Oltre che lo sparo Era quello il problema Ragazzi non mi esprimo Era ovvio Che aveva il Thompson 50 colpi E toglie 13 Mi dispiace Mi dispiace Il Thompson sta 8000 Sì Ragazzi ma adesso ci penso io A prenderlo Ah Interessante Ho rubato qualcosa a qualcuno Non l'avevo ucciso io Ma siamo tutti qua Tranquillo tranquillo Ah ci siamo riuniti tutti qui eh Sì Siamo tutti qui È il tuo turno ora Steffo È il tuo turno Di far cosa? Io mi compro il Thompson E di bruci E cosa c'entra il mio turno Campioncino Ah no Niente niente Si è autoconfuso Ci sono troppe guardi Sto zono Iuso Ma siamo pure in quattro No è difficilissimo Steffo Sta fuga è impossibile davvero Ma hai un'arma decente? Sì M4 M4 è decente Sì sì però ho preso il per due soldi Io amo il per due danno Bellissimo Il per due danno è il migliore Però anche il per due soldi è fortissimo Mi sembravi arrestato Quando ti ho visto inchinato a prendere le cose Ho detto finalmente l'hanno arrestato Invece no Non succederà mai Guarda il mio petino Quanto è bello Peccato Ma cosa peccato Mamona Uno E in effetti il buon De Mark Potrebbe essere anche l'unico A essere mai stato arrestato Sarebbe carina come cosa No non ti lascerò mai Sto titolo Nei tuoi sogni Va bene Mi dispiace Ma guarda tu sei stato già preso Marci Quindi Eh ma infatti ma fa niente Mi dispiace Ma finta che non gli importi Interessante Aiuto un'altra guardia Ragazzi per due danno col Thompson Ciao Eh Posso immaginare Le guardie neanche esistono Poverina Ok Prendiamo anche questa Acchiappiamo anche questa Io forse ho i soldi per evadere Non lo so Ho il dubbio Quanto costa evadere alla fine? Eh non lo so Perché mi mancano un po' di zone Quindi non lo so fare In Trollare Perché mi sa che ci mancheranno poi altre due zone Secondo me non mi bastano ancora Però Sono messo abbastanza bene Perché comunque ho altri 7000 Ma hai tantissimi soldi Hai Eh lo so Sapete cosa ho fatto io a un certo punto Alla strategia Ho preso per due danno combinata per due soldi Per due minuti E lì Ah bello Sono volato proprio Bello Allora spiegatemi dove si prende il per due soldi un attimino Dalle armi Dalle armi Ok Per due money Ok Allora vado a vendere Ai che male sto andando a vendere Una guarda malattro ammazzata in faccia Mi ha tolto un sacco di vita Prevedi di non essere l'unica ad essere arrestata due volte Per favore fai bene le cose Allora Quanto costa questa zona Fatemi capire un po' 9 di 11 3200 Con la fune Bello Mi piace Non è tanto Non è tanto No no 3200 non è tanto infatti Possare vero E riesco ad andare nell'ultima zona di giardino Dove adesso mi prendo i power up solo soletto Per due money vendo 15 Quindi 6700 Ok Mamma mia mi ha dato un colpo Mi ha tolto 50 di 100 Quanto Mamma mia tantissimo Sono le guardie finali queste Ma sono matte Pensavo fosse semplice Ma sono matte Mi pare esagerato Anche a me pare esagerato Però dovrei correre a vendere No non ce la faccio Però se scappi sei proprio il campioncino supremo Stef Sì esatto Lo capisci Non deve essere facile comunque scappare Raga è giusto Eh beh ovvio Posso aprire questa altra zona per 3005 Comunque sono 3005 e 3002 E adesso l'ultima non lo so Vi farò sapere Però Che rischio amici Avete rischiato? Io sì A me mi è spawnata una guardia di qualcun altro Che avevo ucciso vicina Ok Eh quello capita spesso Stavo tipo morendo Quello capita spesso No non morendo Sembra che volevo Quasi arrestato Allora Vediamo un po' 4100 Eeeh Aia Che male Cosa Stef Che succede? Ho aperto la zona finale Sto scappando dalla prigione No di già Addio Addio miei campioncini No Stef Di già Dai È uscito Yes Prima a finire Ma ora è questo Che brutto Ma cosa che brutto Che brutto Non ci ho neanche aspettato come sempre Bu Non te la meriti Non te la meriti questa fuga Stef Ma lasciatemi in pace Bu Non ti meriti questa fuga mi ha devastato Stai lasciando i tuoi amici in prigione Esatto È proprio così Adesso faccio un bel Rebirth E rinizio da capo Perché devo arrivare fino al bazooka Non oggi Ma devo arrivare fino E beh scusami Secondo te sono un campioncino senza bazooka io No Non ho mai detto questa cosa L'ho mai detta Ok Io sono alla 9 di 10 Come vedete Rebirth Multiplier Adesso Tutto quello che faccio Sia l'esperienza Che gli scraps Saranno a 1.25 per Invece che a 1 Quindi andrò molto più veloce Facendo tutte le cose Comunque Abbandono gli altri ancora in prigione Noi ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Andate tutti a provare la mappa Mi raccomando Ricordatevi di lasciare i like Alla mappa Sotto accompagnati altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao